Benvenuta nel nostro gruppo. Parlo al femminile sì, perché la maggior parte dei membri della nostra comunità sono appunto proprio donne come te. Spesso mamme in cerca di un'opportunità che il mondo dei servizi rivolti al bambino può offrire. Aprire una ludoteca, un baby parking, un parco giochi oppure una sala per feste diventa quindi una soluzione perfetta per combinare una chance, passione per bambini e sviluppare creatività e crearsi una nuova fonte di reddito. Quello che però in questa fase viene sottovalutato è che si tratta di un lavoro vero, fatto di ostacoli da superare e problemi da risolvere, che senza esperienza e consigli possono diventare un fattore rilevante di rischio. Lo stesso avvio dell'attività, che potrebbe sembrare semplice e tutto sommato potrebbe anche esserlo, se non si conoscono alcuni aspetti della gestione basici, potrebbe risultare sbagliato al punto di compromettere la riuscita dell'intero progetto. Ciao, sono Salvatore Papa, fondatore di Starlab Group, azienda multinazionale che produce attrezzature per l'intrattenimento e tecnologie per lo spettacolo. Da anni supporto giovani imprenditori e imprenditrici nell'avvio dei loro progetti nel settore ludico e nelle fasi di sviluppo del loro business. Sono anche autore di questo libro, Come aprire una ludoteca, nato proprio per supportare imprenditori che in fase di avviamento hanno difficoltà nel comprendere come strutturare il loro progetto. Ho fondato il gruppo, il top delle ludoteche sale per feste, come luogo di aggregazione d'incontro per chi svolge la professione, chi vuole iniziare e chi ha bisogno di supporto per progredire. Mi sono reso conto che, escluso il caso della formula del franchising dove i vari affiliati si scambiano opinioni e esperienze spassionatamente, fuori da questo contesto era difficile ottenere informazioni di valore da persone che si reputavano costantemente in concorrenza. Sono convinto che una sana condivisione tra concorrenti e tra colleghi sia la base per la crescita individuale e del settore. Sono sicuro che tanti insuccessi potrebbero essere anche evitati se si conoscessero le giuste informazioni o perlomeno ci si allertasse su eventuali rischi ricorrenti. A questo punto non ti resta che completare il form contatti con il tuo nome e il tuo indirizzo e entrare in questa community schiacciando semplicemente il bottone dove ci sono già oltre i mille amici che ti stanno aspettando perché ci incontreremo all'interno di questa community più grande d'Italia di Ludoimprenditori. Prima però voglio farti un regalo. Accedendo al gruppo potrai subito scaricare gratis il primo capitolo del mio libro Come aprir una ludoteca. All'interno ci sono indicazioni importanti sugli errori da evitare ma soprattutto tanti consigli su come generare maggiori incassi, come realizzare un programma ricco ed attraente per i tuoi clienti, le informazioni sulla normativa e le regole di sicurezza che devi assolutamente conoscere e i consigli eventualmente su come finanziare la tua attività ludica anche con i fondi agevolati. Quindi che fai? Compila e clicca subito. Ci vediamo nel gruppo. Ciao! Ciao!